Lo ha tradito ad esempio il dibattito che c'è stato durante la nostra campagna elettorale. Quando strumentalmente, e arrivo all'intervento del Presidente Casini, qualcuno sosteneva che con un governo a guida Meloni, con un governo di centrodestra, l'Italia sarebbe stata isolata nel mondo, come se fosse davvero possibile isolare una nazione che è fondatrice dell'Unione Europea, fondatrice dell'Alleanza Atlantica, che ha un ruolo fondamentale nel Mediterraneo e che ha una storia unica nel contesto mondiale. Allora forse siamo noi, signori, che un po' ci sottovalutiamo, che un po' ci sottovalutiamo diciamo volutamente, un po' lo facciamo strumentalmente. Vede Presidente Casini, la ringrazio per il richiamo all'intelligenza, ma proprio perché mi ritengo anche io una persona diciamo mediamente dotata di senno, è quello che ho detto nella mia relazione, lo penso e lo ribadisco. E guardi, non era legato alle materie che lei ha ricordato.